E' arrivato il momento Se voi adesso siete disposti ad accoglierlo e a farlo vostro, continuiamo perché la sua benedizione possa riempire la vostra vita e il sacramento, quindi quest'azione di Dio, trasformi voi da due singoli, da due famiglie diverse, in un'unica carne. I due saranno una carne sola, proprio per dire il profondo legame che si instaura tra l'uomo e la donna nel sacramento del matrimonio. Non è facciamo una compagnia per andare a fare una gita o per andare a fare la crociera. E' un legame così solido che uno non può vivere senza l'altro, come se una persona possa essere tagliata a metà. E' questo che voi adesso dovete accettare. Noi andiamo avanti, se no ci potete dire, noi potete dire direttamente al ristorante e lasciamostare tutto il nostro. Ve lo dico io se non avete coraggio. Ce l'hanno il coraggio, voi qui non siete solo gli invitati per andare a mangiare, voi qui siete i testimoni e la comunità cristiana che accompagna con la preghiera questa azione di Dio. Ecco perché mentre adesso loro si scambieranno il giorno della vita. Io vi invito tutti in silenzio e in prima di preghiera a invocare l'aiuto e la protezione del Signore perché li assista da questo momento, come per Tobia nella prima lettura, fino al termine della loro vita. Io vi invito tutti in silenzio e la protezione del Signore Io vi invito tutti in silenzio e la protezione del Signore Io vi invito tutti in silenzio e la protezione del Signore Io vi invito tutti in silenzio e la protezione del Signore Io vi invito tutti in silenzio e la protezione del Signore Io vi invito tutti in silenzio e la protezione del Signore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti